Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questo appuntamento fuori programma per la rubrica 4 chiacchie all'interno del mondo open source. Questo video è fatto sulle emozioni del momento per commentare con voi la notizia della giornata. Sul canale Firefox OS Italia è stata annunciata la commercializzazione dell'Alcatel OneTouch Fire. L'Alcatel OneTouch Fire che cos'è? E' il primo device prodotto da Alcatel ad essere commercializzato nel nostro paese che monta Firefox OS. Questo device è quello medio tra i tre attualmente presenti nella gamma di device con Firefox OS, ovvero lo ZTE che è quello di faccia più bassa, diciamo così, o meglio che quello che ha avuto pareri un po' più negativi. Poi troviamo l'Alcatel e infine troviamo l'LG che rispetto ai primi due device prodotti offre delle caratteristiche un po' diverse con fotocamere, con flash led e cose del genere. Come dicevamo appunto, questo è il primo device prodotto da Alcatel commercializzato con Firefox OS che vediamo in Italia. L'operatore tramite il quale è stato commercializzato è naturalmente Team, come era stato annunciato nei mesi scorsi quando è stata annunciata appunto la partnership tra Firefox OS e Team. E' un device esclusivo per Team, quindi non lo vedremo con altri operatori, non lo vedremo sul mercato Open Market. Il device è già presente sullo store ed è acquistabile al prezzo di 79,90€. Disponibile in due colorazioni, la versione arancio che è quella che abbiamo visto praticamente in quasi tutti i video unboxing e la versione bianca. Vediamo un po' di leggere le caratteristiche principali di questo device. Naturalmente monta Firefox OS nella versione 1.1, quindi l'ultima versione che abbiamo attualmente in commercio. Connettività HSDPA 7,2, naturalmente GPRS Edge. Monta una scheda supporto Wi-Fi, Bluetooth, micro USB, display da 3,5 pollice a 262.000 colori, fotocamera da 3,2 megapixel senza flash led, non so nemmeno se è presente l'autofocus, poi magari faccio un focus, vedo di informarvi meglio, diciamo. La memoria interna è di soli 512 MB, comunque espandibile con microSD fino a 32 GB. In confezione troviamo già comunque una SD da 2 GB, quindi non siamo, diciamo così, castrati subito con lo spazio. Il processore è da 1 GHz, naturalmente radio FM, lettore MP3 e video record. Nella confezione troviamo carica batteria standard, auricolare stereo, cavo dati micro USB, la microSD che vi ho detto da 2 GB e una guida rapida. Guida rapida che sarà molto utile perché comunque Firefox OS è un sistema operativo nuovo che il pubblico ancora non conosce, quindi sarà molto utile per capire un po' il funzionamento del device. Anche se dai primi video che ho visto sulla rete, Firefox OS risulta immediato da utilizzare. In confezione troviamo anche una SIM card con 5 euro di traffico per pagato in uso, quindi alla fine se togliamo dai 79,90 5 euro di traffico, alla fine è come se avessimo pagato 74,90. Il prezzo in linea con quello che è stato fatto negli altri paesi. Anche se mi sa che in altri paesi comunque c'è stata la SIM, sì, dava più traffico disponibile. La spedizione è gratuita, quindi non ci dovremmo accorrare onere di spedizione qualora decidessimo di comprarlo tramite lo store, che attualmente è l'unico metodo. Che dire, attendiamo i primi video. I primi video dei siti specializzati in recensioni di telefonia, i telefonini per vederne un po' le potenzialità. I primi video in italiano, visto che comunque negli altri nazionali era già stato commercializzato, quindi un'idea ce la possiamo più o meno fare. Spero di riuscire a racciumolare abbastanza soldini per Natale per poterlo comprare. Come ben sapete sono molto entusiasta, sono molto attratto da questo sistema operativo e non vedo l'ora di poterci mettere le mani su. Fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di acquistarlo o se volete aspettare ad esempio altri device un po' più performanti. Ditemi la vostra, un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità e forza Firefox OS!